Ciao a tutti i makers e bentornati anche questo sabato qui nel mio garage quest'oggi parliamo di elettronica perché elettronica? Beh ragazzi siete sul primo canale youtube italiano sull'artigianato digitale è ovvio che si parli anche di elettronica lo abbiamo fatto per diverse volte durante quest'anno con alcuni progetti magari qualcuno lo andiamo a rispolverare e lo abbiamo fatto anche gli anni scorsi bene ma quest'oggi parliamo di circuiti elettronici ed in particolare al modo di realizzarli ci sono diverse tecniche alcune che vanno bene per la prototipazione mentre altre per la fabbricazione digitale o per comunque la produzione anche in serie se serve però prima ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per ricevervi i prossimi video quelli dell'anno prossimo e anche l'ultimo dell'anno che uscirà tra poco e perché no smartare il pollice in su sulla fiducia e dimmelo nei commenti mattley pollice in su sulla fiducia ma adesso avanti che dobbiamo fare qualche circuito elettronico prima di rispondere alla domanda come realizzare un circuito elettronico dovremmo porci la domanda perché dovremmo realizzare un circuito elettronico le risposte sono molteplici ad esempio potremmo aver realizzato un circuito per un progetto magari abbiamo delle conoscenze di elettronica e ci siamo fatti questo circuito per ad esempio chi se lo ricorda questo progetto tra l'altro ragazzi questo era tanta roba è un progetto di artigianato digitale orientato alla fallegnameria se ve lo siete persi ve lo lascio qui in alto nelle schede ad ogni modo come potete vedere l'elettronica può esserci utile per realizzare dei progetti qualsiasi tipo di progetto in questo caso ho utilizzato arduino ma potevo abbinarci altri componenti e quindi piccole schede di controllo che implementavano il progetto questo quindi è un motivo per cui potrei aver necessità di realizzare un circuito elettronico un altro motivo qual è? ho trovato un circuito online di un progetto e lo voglio replicare e quindi può essere il caso di molti di voi che magari non hanno competenze elettroniche come me io ho fatto l'istituto orientato al ramo elettronico ma altri possono non avere queste competenze e si possono affidare ad un circuito che trovano online e lo vogliono replicare ragazzi è facilissimo replicare un progetto se ovviamente è fatto bene ma allo stesso tempo è facilissimo realizzarlo e dopo lo vedremo ultima ipotesi del perché dovremmo realizzare un circuito elettronico beh potremmo dover riparare un oggetto in cui una scheda si è danneggiata e riusciamo magari a riparare la scheda oppure dovremmo ricostruire tutta la scheda io ricordo che anni e anni fa una mia vicina di casa mi diede il telecomando del cancello perché non gli funzionava più e mi chiede se me lo puoi riparare perché non va e io gli ricostruì tutti i percorsi delle piste e poi non so però se funzionò quella volta avevo 15 anni forse vabbè comunque andata questi quindi sono tre esempi del motivo per cui dovremmo realizzare un circuito elettronico ora passiamo ai fatti quindi al come realizzare un circuito elettronico e qua ragazzi le possibilità sono diverse partiamo dalla più semplice magari da quella che conoscete di più ma attenzione perché in mezzo ce n'è una che in pochi di voi conoscono anche quelli che magari sono abbastanza esperti di elettronica tra l'altro ragazzi tutto questo video potrebbe essere il riassunto di una delle prime lezioni di elettronica che mi è stata fatta a scuola tanti anni fa quindi chiudiamo questa parentesi nostalgia parto dal primo esempio e cioè la breadboard tra l'altro qui ne ho una versione minuscola ma ce ne sono di tante versioni e di tante dimensioni quella più classica è questa qui più lunga la breadboard è una basetta che presenta tantissimi fori dove vanno inseriti dei componenti elettronici che poi si collegheranno assieme tra loro com'è che si collegano? beh tra di loro questi forallini sono collegati in diversi modi in particolar modo questa parte centrale qui è collegata in questa riga qui tutta verticalmente quindi tutti i piedini ad esempio della linea 28 sono collegati mentre quelli al di là di questa separazione sono collegati tra di loro in questo modo poi ci sono questi qui invece questi forallini che sono tutti collegati assieme in modo orizzontale e che solitamente si utilizzano per alimentare i circuiti nel senso che da una parte si mette il più dall'altra si mette il meno dell'alimentazione e poi se nel circuito serve portare l'alimentazione in qualche punto la si va a pescare sempre da qui è uno strumento basilare con cui si iniziano a fare i progetti quando si studia appunto io ho iniziato con questi a fare i primi progettini di elettronica a scuola e al di fuori della scuola però è ottima per fare dei prototipi o degli esperimenti in cui dobbiamo realizzare qualche progetto ma non sappiamo ancora come dovrà essere quindi si iniziano ad utilizzare queste breadboard inserendo poi i componenti per la realizzazione e il completamento del circuito quindi ragazzi questa è la base da qui si inizia ad imparare ma da qui si inizia anche a prototipare o progettare quindi questa qui nel laboratorio di ogni artigiano digitale deve essere presente se avete le competenze elettroniche di sicuro già ce l'avete se non avete queste competenze sono sicuro che se trovate qualche progetto da replicare non avete la certezza di quel che fate beh partite da qui vi lascio sotto in descrizione un link come anche il link del secondo metodo forse questo l'avete visto molto più spesso sto parlando delle basette mille fori ragazzi io qui ne ho diverse perché? perché ce ne sono di diversi tipi tra l'altro queste qui intanto come sono formate? sono formate da tanti forellini con una parte teoricamente ramata o comunque in un metallo che fa aderire lo stagno quando si infila un filo, un collegamento o un componente elettronico da stagnare in quel preciso punto quindi inserisco il componente inserisco a fianco il filamento metto quella goccia di stagno che fa unire i due pezzi e poi con il filo faccio il collegamento che devo fare qui ne ho diversi tipi nel senso che questa la si può spezzare in quattro pezzi più piccoli questa in due pezzi più grandi questa è una basetta unica ma vi voglio far vedere una particolare questa basetta ha la parte tagnante diciamo sia da un lato che dall'altro mentre di là ne ho una di quando andavo a scuola e ve la voglio far vedere dietro le quinte del mio laboratorio ho praticamente una scatoletta dei ricordi potremmo chiamarla perché all'interno ho tutti dei circuiti o dei componenti che avevo messo da parte per realizzare dei progetti secoli fa praticamente quando ero un ragazzo ad esempio c'è la scheda di un robot tagliaerba che avevo iniziato a realizzare da seguendo una rivista non ha mai funzionato però non so se il problema fosse mio o della rivista però poi ho anche una scheda di un inseguitore solare realizzata da me e funzionante questa volta era funzionante e poi ho questa qui questa è una basetta di quando andavo a scuola in teoria dovrebbe essere un contatore di numeri per segnare i punteggi se ricordo bene come potete vedere questa ha una qualità ben diversa tra l'altro mi sono anche fregato un pezzo e da un lato quindi inserivo i componenti dall'altro andavo a fare le stagnature per saldare i componenti con i collegamenti utilizzavo del filo citofonico quello sottile ed è anche qui abbastanza semplice si posiziona il componente si salda nella parte inferiore e via dicendo c'è però un passaggio intermedio tra questa e la breadboard che vi ho fatto vedere prima ed è quello strumento che in pochi di voi conoscono aspetta dov'è che l'ho messo? aspetta la trovo la trovo eccolo qui ragazzi il vrappatore e concedetemi una piccola gag per i miei ex compagni di classe che magari vedranno questo video in cui ricordo praticamente quando il nostro ex insegnante di elettronica si era convinto che avessimo rubato uno di questi vrappatori e disse Mariani esci fuori il vrappatore uscite fuori i vrappatori ad ogni modo eccolo qua un vrappatore e cos'è? cosa serve sta roba qui? praticamente il vrappatore serve per realizzare un collegamento provvisorio senza doverlo stagnare e si va praticamente ad avvolgere un cavetto su un piedino che si è presaldato al posto proprio del cavetto definitivo quindi è un modo di realizzare un circuito intermedio tra la prototipazione realizzata con la breadboard e la parte semi completa che può essere realizzata con una mille fori vi faccio un esempio per farvi vedere come funziona per fare questo esempio mi preparo con stagnatore filo e poi vi spiego anche quale una mille fori tra l'altro ne prendiamo un pezzo di una piccolina un po' di stagno ovviamente i piedini di cui vi parlavo prima eccoli qua e ovviamente il vrappatore allora partiamo con ordine prima vi faccio vedere un esempio di collegamento standard con lo stagnatore tra l'altro un vero artigiano digitale non svappa ma si aspira i fumieri dello stagnatore battuta pessima lasciamo stare e andiamo avanti allora facciamo un primo esempio di come sarebbe un collegamento tra due parti quindi prendo tra l'altro un pezzetto di cavetto citofonico dal progettino delle scuole superiori visto che già mi sono preso un pezzo di mille fori mi prendo anche il cavetto bene ho il mio cavetto citofonico allora ora tolgo i primi 5 mm che mi servono proprio per togliere la plastica esterna fino ad ottenere i 5 mm di filo da inserire nella scheda li inclino a 90 gradi se voglio ma è una chicca che posso anche evitare poi lo porto nel piedino che voglio stagnare in questo caso ho la parte che può trattenere lo stagno sia sopra che sotto in alternativa di solito si stagna al contrario ma in questo caso posso fare anche così fatta la prima saldatura posso spostare il cavetto metterlo lungo linee perpendicolari tra loro e fare le saldature perfetto questo è il collegamento standard quindi ho il collegamento tra il punto A e il punto B con un cavetto citofonico saldato se però avessi sbagliato dovrei andare lì con un ciuccia stagno e togliere lo stagno scaldandolo e poi tutto un pastriccio con il verrappatore invece è tutto più semplice e ora vi faccio vedere come prendo i due piedini ora che ho i due piedini li metto in posizione un punto tanto per tenere lì i piedini e poi con il dito li sistemo se non sono messi bene e riscaldo il punto che avevo fatto e sistemato anche il secondo benissimo ora posso fare la saldatura per bene anche sul secondo piedino oppure se non mi serve potrei toglierlo però visto che ci sono ormai saldo tutto perfetto quindi ora mi ritrovo i due piedini pronti per ospitare un collegamento in questo caso non utilizzo più il filo citofonico ma uno leggermente più sottile e mi raccomando che non sia un filo con all'interno tanti fili intrecciati deve essere un filo unico e iniziamo ad utilizzare il verrappatore ora vi spiego come per prima cosa mi sono tagliato un pezzettino di filamento e utilizzo questa parte qui del verrappatore per andarne a togliere i primi due centimetri e tiro eccolo qua due centimetri abbondanti puliti dalla plastica ora sulla parte inferiore del verrappatore praticamente ci sono due forellini uno più grande che sarà quello in cui andremo ad inserire il piedino ed uno più piccolo che si trova nella parte esterna vi faccio vedere dove si inserisce il filo ecco qua da questa parte qui che poi fuoriesce eccolo qui quindi arrivo a questo punto piego il filo come vedete dalla parte qui laterale è uscito la parte in eccesso e ora posso andare nel piedino a continuare l'operazione inserisco il verrappatore sul piedino sul foro centrale praticamente e ora ruoto tutto il filo in eccesso si sta ora avvolgendo attorno al piedino bastava anche meno di quei tre centimetri che ho fatto due centimetri abbondanti non so se riuscite a vedere dalla messa a fuoco però ora il filo si è attorcigliato attorno al piedino ho quindi un collegamento provvisorio ora come vedete arriva fino a qui da qui in poi posso andare a rimuovere la plastica ora inserisco anche questo sul forellino quello laterale dentro qui nel verrappatore e poi nel piedino e ora ruoto ora come vedete mi è venuto leggermente più lungo ma secondo me perché non c'ho più la mano di una volta ad ogni modo ho fatto il collegamento è un collegamento provvisorio perché se io volessi adesso ho sbagliato taglio e stacco il collegamento e quindi è ottimo quando dobbiamo fare dei circuiti magari complessi ma in cui non sappiamo se è corretto tutto il progetto tutto il circuito a proposito di progetto c'è anche un altro sistema per realizzare circuiti che necessita appunto di una progettazione e deve essere una progettazione su un software però per spiegarvi nel dettaglio devo prendere un altro tipo di piastra differente dalla millefori che avete visto finora eccole qua queste sono delle schede ramate schede normalissime ora vi faccio vedere più nel dettaglio queste schede praticamente hanno la base come quella dei millefori che ora non ricordo di che materiale sia non mi viene e poi nella parte superiore c'è un foglio di rame ora per effettuare un circuito elettronico devono esserci delle piste di rame non una superficie intera di rame quindi com'è che avviene la realizzazione di un circuito elettronico con una scheda come questa ci sono due strade percorribili la prima non ve la farò vedere nel mio canale youtube proprio interamente non la vedrete qui ma la potete andare a vedere su un video di Atilab Atilab vi ha fatto vedere in un video abbastanza vecchio come realizzare un circuito elettronico con la fotoincisione è un processo anche chimico io non mi sono mai azzardato a farlo e nemmeno a scuola mi hanno fatto provare boh non lo so il perché ad ogni modo tramite un processo chimico che va a corrodere delle parti che non sono state a contatto con un foglio in cui c'era disegnato il circuito si va a sciogliere il rame esterno e rimangono le piste questo è un riassunto forse anche sbagliato andatevelo a vedere nel video vi lascio il link sotto in descrizione c'è un altro modo però per realizzare i circuiti elettronici con questo metodo ve lo farò vedere tra poco ma prima bisogna parlare di progetto perché queste schede vanno progettate con dei software che poi vi aiutano ad avere un quadro generale e proprio per questo scopo ho fatto partecipare uno di voi all'interno di questo video uno che i circuiti elettronici li mangia per colazione mi ha detto mi ha detto Francesco ora vi spiegherà quale software utilizza e vi descriverà un po' il software ragazzi software gratuito tra l'altro vi anticipo già è super timido quindi ci andrebbe un like sotto al video solo per ringraziarlo del suo nel suo sforzo per partecipare a questo video nel frattempo io mi preparo perché devo farvi vedere come andrò ad applicare quello che realizza lui ora qui nella realtà ciao a tutti i makers benvenuti nella mia stanza del fai da te io sono Francesco ho 33 anni e lavoro nel settore delle piattaforme aeree sono un makers da quando ne ho memoria e il settore del fai da te che preferisco è quello elettronico quindi alla richiesta di Matteo di collaborare a un video in cui parlava di progettazione elettronica non l'ho potuto dire di no oggi vi volevo parlare di un software completamente gratuito e sottolineo completamente che permette di partire da un circuito su mille fori tipo questo fino ad arrivare a un qualcosa di più professionale tipo questo qui perché va bene il circuito su mille fori è indispensabile all'inizio ma se poi si dovesse avere l'esigenza di produrne in serie fidatevi di me si perdono anni di vita a farle tutte su mille fori il software in questione si chiama KICAD ed è un software che fa parte della categoria degli IDA in italiano IDA e sta per Electronic Design Automation al suo interno comprende vari tools i principali sono due uno che permette di disegnare lo schematico di un circuito stampato e il secondo che prendendo i dati da questo schematico che uno ha creato e riporta tutti i collegamenti per poter fare per poter disegnare tutte le piste che servono per farvi capire un po' meglio quello che ho appena spiegato ci mettiamo al pc e vi faccio vedere eccoci qua questa è l'interfaccia principale del programma vi ricordate come è questo programma completamente gratuito e le due parti fondamentali sono questo l'editor di schemi elettrici e questo qui che è l'editor del circuito stampato però serve un'idea qualcosa da creare facciamo una candela elettronica dei led che si accendono con un accendino e si spengono sul piatto semplice ma ad effetto creiamo un nuovo progetto lo chiamiamo candela elettronica apriamo l'editor dello schematico e da questa pagina noi possiamo inserire tutti i componenti che ne vogliamo del nostro progetto una resistenza un transistor e possiamo fare tutti i vari collegamenti tra i componenti fino ad ottenere quello che ci serve una volta finito lo schema il passo successivo è associare ad ogni simbolo che avrà effettivamente sul circuito stampato per fare questo dobbiamo associare un'impronta nell'apposita pagina a ogni componente viene associata un'impronta adeguata dopo l'impronta dopo l'impronta creiamo una netlist che è l'insieme di tutti i collegamenti che dallo schema verranno riportati sulla parte di PCB ora chiudiamo lo schematico e andiamo nella sezione PCB una volta dentro dobbiamo caricare la netlist creata poco fa aggiorno ok ed ecco che abbiamo tutti i componenti del circuito collegati da queste linee bianche e disposti assolutamente a caso quindi quello che noi ora dobbiamo fare è selezionare i componenti uno per volta spostarli come meglio ci aggrada e una volta sistemati una volta ottenuto un risultato che ci piace dobbiamo creare tutti questi collegamenti che sono le piste proprio del circuito che è stampato seguendo queste linee bianche che si sono create in automatico dopo un po' di tempo speso a posizionare i vari componenti e a collegarli tra di loro il risultato finale è questo qui Kikad offre anche la possibilità di vedere il lavoro in 3D per avere un'idea di come sarà il tutto una volta prodotto ed è una funzione che io apprezzo molto bene l'ultima cosa che ci resta da fare è esportare il lavoro quindi con questa icona noi scegliamo il tipo di file da esportare o Gerber se vogliamo poi inviarlo a una ditta di stampaggio professionale oppure nel nostro caso visto che Matteo dovrà stamparla con la CNC esportiamo un DXF bene fai da Matteo inviati ed ora il video può procedere con il vero mattatore del sabato pomeriggio uno che davanti all'obiettivo non si fa intingurire come vabbè ciao a tutti ragazzi è stato un piacere ragazzi pollice in suo Francesco meritatissimo meritatissimo anzi se non siete tanto timidi direi un grazie a Francesco nei commenti ci sta detto questo Francesco ci ha spiegato quindi come progettare un circuito elettronico con il software Kikad che successivamente ci mette di fronte a due strade principali quella dell'autocostruzione della scheda del PCB o quella dell'ordinare il PCB ad un'azienda e la vedremo poi questa nel caso di autorealizzazione come posso fare beh la soluzione principale era quella che vi spiegavo prima cioè quella della fotoincisione spiegata nel video di ATLAB in questo caso in questo video vi farò vedere come però realizzo una PCB da questa scheda con la Snapmaker cioè con una CNC ovviamente una CNC che sia precisa e non una CNC ad esempio già la Stepcraft non andrebbe bene perché perché qui stiamo parlando di precisione non decimale di più di più in concreto cos'è che faccio intanto parto da Fusion 360 ragazzi un artigiano digitale utilizza Fusion 360 perché perché gli dà la possibilità di imparare un software solo tra l'altro gratuito per CNC stampa 3D ed eventualmente anche laser e nel 2020 vi spiegherò anche questa strada ad ogni modo apro Fusion 360 e importo su Fusion i DXF che mi ha spedito Francesco creati con il software quindi tac importo il file ho quindi le piste ho quindi anche il segno dei fori le dimensioni della scheda tutto come è stato progettato da Francesco a questo punto estrudo e per finire realizzo le forature molto semplicemente ora ho praticamente la mia scheda con le piste che sono rimaste nello sketch e poi vedrete perché me le tengo sullo sketch e le forature che le forature mi servono solamente per far capire poi alla parte cam che là ci vanno dei fori a questo punto passiamo nella parte cam che ora si chiama manufacture eccola qui tra l'altro vi ricordo che nel corso di Fusion che ho realizzato la parte cam non c'è perché perché verrà inserita nel corso di lavorazione CNC perché c'è stata questa mia scelta perché non ha senso che io vi spieghi che da A a B ci si arriva in questo modo se poi non sapete quando bisogna utilizzare quella lavorazione e con quali velocità con quale approccio con quale fresa avreste imparato a programmare la parte cam su Fusion ma avreste però potuto danneggiare la vostra CNC se non sapete quale fresa utilizzare con quale velocità lavorare con quale approccio fare la lavorazione il senso di lavorazione eccetera eccetera questa è stata la mia scelta se però volete partire dalle basi imparare ad utilizzare Fusion 360 sotto c'è il link imparate ad utilizzare quello che intanto vi sarà utile per la stampa 3D e poi potrete passare ad imparare la parte cam come dicevo ho aperto la parte cam di Fusion ho creato ovviamente un setup e successivamente una lavorazione che mi va a fare un'incisione sul bordo delle piste in modo da distaccare la pista dalla parte ramata di tutta la scheda in questo modo se faccio una simulazione tac solo lo stock faccio partire la lavorazione ho fatto ovviamente un'incisione microscopica è praticamente 0,001 millimetri finita la simulazione non mi resta che esportare il file buttarlo sul software di controllo della Snapmaker e fare le fresate con però qualche accorgimento nell'installazione della scheda ora vi faccio vedere per bloccare la pista al piano di lavoro potrebbe bastare questo sistema qui ma io non mi fido non mi fido perché ogni minima vibrazione nella lavorazione di questa scheda potrebbe andare a danneggiarmi le piste che vanno a crearsi danneggiata una pista non serve più fare il PCB devo fare il collegamento con il filo quindi per ovviare questo problema ho deciso di incollarlo con il biedesivo in questo modo questo assorbirà tutte le vibrazioni ma la scheda sarà comunque bloccata eventualmente poi posso bloccarla con questo sistema ma in un secondo momento perfetto torniamo al computer programma pronto posso esportarlo quindi ecco qui lo chiamerò piste come avete visto ho fatto già un test e ora posso aprire il software di controllo della Snapmaker che si chiama Snapmaker.js wow e posso caricare il file gcode quindi tac piste ci siamo eccolo qua ora che ho aperto il file però viene il difficile cioè l'azzeramento della punta con la scheda perché se la imposto troppo bassa rischio di grattare troppo rimuovere troppo materiale per questo motivo tendo a stare più in alto faccio partire una lavorazione di test vedo quanto sta mangiando se sta mangiando se non sta mangiando abbasso poi l'azzeramento nuovamente quindi mi riposiziono benissimo abbassiamo ok ho impostato lo zero sono pronto per partire e sono pronto per fermare come vi dicevo la fresa non sta toccando ora guardo quanto manca con un foglio di carta e la abbasso vi faccio notare che con la snap maker ho la possibilità di abbassare o di 0,05 millimetri o 0,01 cioè ho veramente una precisione pazzesca precisione che però può andare a quel paese se il piano non è assolutamente dritto in teoria su un'area così piccola dovrebbe essere dritto e ora sono pronto a far partire il programma bene PCB completata non sarebbe finitissima del tutto perché ci andrebbe sostituita la fresa per poi ritagliare la parte che ci interessa ma lo farò in un progetto futuro anzi anzi ditemelo sotto nei commenti se volete vedere di cosa si tratta questo PCB è un progetto semplice ma carino non ve lo faccio vedere ora perché come vi ho detto non ho la fresa adatta e si vede guardate voi stessi le immagini della PCB non è riuscita come volevo ma semplicemente perché non avevo la fresa adatta ad ogni modo fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere di cosa si tratta questo PCB ma adesso voglio parlarvi dell'ultimo metodo per fare le PCB che nasce anch'esso dal progetto che ha realizzato Francesco cioè dal progetto fatto con keycard l'ultimo metodo che a per mio è anche quello più conveniente sia in termini economici ma soprattutto di qualità è quello di farsi fare le PCB in poche parole dopo aver realizzato il PCB con il software potete caricarlo all'interno del sito PCBWay ragazzi non è una campagna pubblicitaria PCBWay vi spedirà le vostre schede tra l'altro me ne ha inviate tre perché perché volevamo fare una collaborazione ma ancora non ci siamo riusciti il progetto doveva uscire a novembre non è ancora nato diciamo è nato qualcun altro ma non è nato il progetto però mi hanno voluto comunque mandare queste schede qua loro non sanno manco che sto parlando del loro prodotto ma vi assicuro che la qualità è veramente fenomenale ma non solo la qualità anche i dettagli cioè mi hanno regalato questi piccoli progettini che tra l'altro potete anche vincere voi se ordinate nel loro sito nel periodo di Natale regaleranno 12.000 gadget da appendere all'albero con le decorazioni fatte in rame stampa bianca mi basta inserire due batterie e accendere l'interruttore e avrò quindi la mia stella di Natale da appendere all'albero luminosa bene ragazzi adesso non avete più scuse potete iniziare a cimentarvi anche voi nella realizzazione di qualche progetto o nella replica di qualche progetto che trovate online io ringrazio ancora una volta Francesco ma soprattutto i Patreon di cui fa parte Francesco grazie a tutti i Patreon e anche quelli tra di voi che vorranno entrare a far parte dei Patreon ragazzi i buoni propositi del 2020 è entrare a far parte dei Patreon perché perché anche con 2 dollari si diventa produttori del canale e in questo modo riesco a portare contenuti interessanti ma soprattutto elaborati tra l'altro l'obiettivo del 2019 non è stato raggiunto quello di raggiungere i 300 Patreon perché a 300 Patreon riuscirò ad aggiungere una persona allo staff che mi aiuterà nella realizzazione dei progetti ma non manualmente ma il dietro le quinte ragazzi il lavoro qui è enorme ma ve ne parlerò nell'ultimo video dell'anno che uscirà a breve a me non resta che salutarvi darvi appuntamento a tra poco tra qualche giorno per l'ultimo video io vi auguro buon Natale e il felice anno nuovo ce lo diamo nel prossimo video ciao a tutti makers ciao a tutti